Ora siamo finalmente una community Ciao ragazzi e benvenuti in questo brevissimo video Oggi voglio finalmente annunciarvi del fatto che abbiamo finalmente lanciato il nostro canale discord ufficiale Che trovate ovviamente il link in descrizione E' stato veramente fantastico vedere in questo anno avere una crescita della community praticamente in modo esponenziale Infatti vi ricordo che in descrizione trovate anche il gruppo dedicato facebook Dove più di 1200 persone ogni giorno si scambiano consigli e feedback E' vero facebook non è utilizzato tantissime persone Ed è vero molti di voi mi stanno dicendo Samuele perché non crei anche un canale telegram? E rispondo a questa domanda dicendovi che gestire un altro canale è veramente molto molto difficile Colgo l'occasione per ringraziare Marco, Sami e anche tutti gli altri ragazzi Che ogni giorno mi danno una mano alla gestione appunto di questi canali Che se non fosse per queste persone sicuramente erano già morti Vi consiglio assolutamente di entrare proprio sul canale discord Proprio perché all'interno è possibile trovare diversi canali Canali dedicati ad esempio allo sviluppo di videogiochi con Unity o con Unreal Con Godot e lì dentro troverete sempre più persone Vi consiglio assolutamente di dargli un'occhiata Perché da molti punti di vista avere una community del genere per me è fantastico Quando io avevo 15-16 anni purtroppo non c'erano community di questo genere A parte qualche forum perché ai miei tempi si utilizzavano i forum E adesso è fantastico vedere un programma come Discord Che dà la possibilità di scambiarsi veramente tanti feedback Soprattutto su un argomento di questo genere Ma non voglio ovviamente finire questo video in questo modo Perché voglio assolutamente anche aggiornarvi del discorso jam Ragazzi mancano pochi giorni alla fine della jam In particolare 6 giorni perché oggi è giorno 16 Ma questo video lo vedrete tra un po' di giorni E niente ragazzi abbiamo 100 partecipanti alla jam Per me è veramente fantastico rilasciare la mia prima jam ufficiale E vedere che siamo in top 10 quindi in tendenza Per quanto riguarda le jam su itch.io È fantastico non vedo l'ora di vedere tantissimi giochi caricati Spero che ci siano almeno una ventina, trentina di giochi Adesso non so perché ho visto anche che questo periodo per alcune persone È veramente molto difficile C'è chi è in vacanza, c'è chi ad esempio non ha internet C'è chi è dall'altra parte del mondo Mentre per alcune persone invece è un periodo perfetto Perché sono a casa a nerdare Ma mi raccomando ragazzi divertitevi anche Sfruttate l'estate anche per conoscere nuove persone E per tutte quelle persone che invece mi stanno dicendo Se ci saranno altri jam in futuro Assolutamente sì La mia idea principale è quella di realizzare due principali jam l'anno Ovvero una nel periodo estivo come adesso perché è il periodo un po' perfetto per tutti Sia per i ragazzi che non hanno scuola Ma anche per quelle persone che lavorano E che forse riescono ad avere delle ferie E poi voglio fare un'altra jam nel periodo natalizio Quindi nel periodo delle vacanze Ovviamente è una jam molto molto più corta Ma mai dire mai perché mi piacerebbe anche fare altre piccole jam Della durata di 3-4 giorni Che sicuramente potrebbero essere molto molto interessanti Quindi preparatevi perché se questa jam andrà alla grande E mi sa che così sta andando Ci saranno tantissimi altri eventi E forse chissà magari nelle prossime occasioni Anche con degli sponsor ufficiali Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fino a qui Sto vedendo che questi video vi piacciono veramente tanto E non vi preoccupate arriveranno tanti altri tutorial Devo assolutamente sistemarmi con tutta la postazione Per portarvi sempre più video di maggiore qualità Ho in mente anche qualche collaborazione che presto vedrete sul canale Nel momento giusto E vi consiglio di rimanere aggiornati In modo da non perdervi nessun video Quindi vi invito di cliccare il bottone iscriviti Vi auguro un buon sviluppo di videogiochi E ci vediamo domani con un nuovo video E vi aspetto anche ogni sera in live Ciao 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 Ciao